carissime amiche amici sono molto felice di avervi ancora una volta nel mio canale mi è restato del materiale dal maglioncino nebbia ho pensato di usarlo di usufruirlo per confezionare un cappellino che insieme al maglioncino formi un bellissimo completo con questa angola design della ian e ho acquistato sempre da il figlio da rihanna maglia uncinetto questo bellissimo pom pom nero con dei fili argenti che metteremo alla fine del cappellino allora per questo cappello io ho usato lo stesso punto del maglioncino ho montato 72 catenelle che divise per 8 mi danno 9 motivi è una misura standard di una di una circonferenza della testa standard ho chiuso in cerchio la mia catenella fate attenzione che non si giri e ora cominciamo con il tutorial mi alzo con due catenelle e vado fare il primo giro di mezze maglie alte carico il filo entra nella seconda maglia di base mezza maglia alta rientro nella successiva mezza maglia alta continuiamo così fino alla fine del giro ho chiuso il mio giro con a me una mezza maglia bassa sto lavorando con un uncinetto del numero 5 perché questo punto essendo incrociato poi richiede una mano molto morbida per non avere la difficoltà di incrociare le maglie a questo punto partiamo con il secondo giro mi alzo con 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta e nella stessa maglia di base vado a fare altre 7 catenelle che con le catenelle inizio fanno 8 maglie alte quindi ogni ventalietto sarà formato da 8 maglie alte ecco il ventaglietto di 8 maglie alte ora dobbiamo estrarre delle asole prendendo la maglia dietro questa che si è venuta a creare con la mezza maglia alta non questo davanti questa dietro estraiamo delle asole le allunghiamo e senza caricare il filo ne estraiamo 8 e le ho nelle sette maglie seguenti più una che abbiamo già fatto sono nelle otto asole nelle otto catenelle posteriori 238 asole ora dobbiamo incrociare queste asole quindi usciamo con l'uncinetto prendiamo le ultime quattro da dietro fado piano per farvi vedere queste così 2 3 e 4 aiutandoci con le dita andiamo a prendere le altre quattro le prime quattro che rinfiniamo sull'uncinetto ecco qua ora carichiamo il filo usciamo da otto usciamo da due nell'ultima catenella dell'ultima asola rientriamo caricando il filo facciamo riapriamo il ventaglietto 8 maglie alte 1 2 ecco il secondo che il secondo ventaglietto di 8 maglie alte ora si ricomincia da capo senza caricare il filo andiamo a prendere la maglia posteriore ed estraiamo 8 asole una nella seguente 2 nella seguente 3 ecco le 8 asole ora usciamo con l'uncinetto carichiamo sull'uncinetto le ultime 4 da dietro e poi aiutandoci con le mani facciamo attenzione di non perdere finiamo le altre quattro ora chiudiamo 8 chiudiamo 2 questo è il secondo giro continuiamo con questa lavorazione fino alla fine del nostro giro sono alla fine del giro o 7 asole sull'uncinetto l'ottava la andiamo a prendere qui dove c'è l'arche il ventaglietto perché se vi ricordate nell'ottava asola l'ha fatto il ventaglietto quindi andiamo a prendere l'ottava asola incrociamo chiudiamo nella terza catenella ho chiuso il giro nella terza catenella nella terza catenella della prima maglia adesso dobbiamo ripetere questi due giri andremo a rifare questo giro di mezze maglie alte 8 ma mezze maglie alte su ogni archetto poi da un archetto passeremo all'altro archetto ci alziamo con due catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta carichiamo fino e andiamo a prendere da dietro perché questo è punto rilievo quindi su ogni archetto prenderemo la maglia posteriore questa e facciamo le nostre otto mezze maglie sto finendo le ultime otto mezze maglie alte dell'ultimo ventaglietto siamo arrivati praticamente alla fine del giro 7 e 8 chiudiamo il giro con una mezza maglia bassa nella scuola catenella di base questa ora per riprendere con il giro dei ventaglietti dobbiamo spostarci circa al centro quindi con delle mezze maglie basse ci spostiamo verso il centro del ventaglietto più o meno sulla quinta maglia 34 ok ora ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta nella stessa catenella di base in totale compresa di queste catenelle facciamo 8 maglia e questo è il primo archetto primo ventaglietto 345 5 6 7 8 andiamo a prendere le nostre asole ora da dietro prendendo da dietro e allunghiamo una allunghiamo 2 non chiamo 3 e 4 e 5 6 7 siamo circa a metà dell'altro ventaglio ora proseguiamo il nostro giro come il giro precedente qui incrociando le maglie definendo chiudendo il giro qui dopo alla fine nella terza catenella con questo punto proseguite il cappellino fino alla lunghezza desiderata lo farò anch'io e poi ci rivedremo alla alla fine della nostra lunghezza desiderata e vi dirò nel mio caso quanti motivi ho ripetuto sono arrivata alla mia attenzione del della mia cuffietta io ho ripetuto sei motivi di lunghezza e mi danno 23 centimetri l'ultimo giro dell'ultimo motivo che andrebbe fatto con le mezze maglie alte ho fatto invece un giro di maglie alte non prese dietro normali 8 su ogni ventaglietto mi sono alzata con 3 catenelle nella prima che sostituisce la prima maglia alta e a fine giro chiuso nella terza catenella con una mezza maglia bassa ora proseguiamo finendo la cuffia con un punto elastico il punto elastico è formato da maglie alte prese davanti e prese dietro ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta carichiamo il filo la maglia che segue entriamo in questo punto l'abbracciamo usciamo dall'altra parte usciamo con un filo e facciamo una maglia alta normale quella che segue andiamo nel senso posto carichiamo il filo entriamo da dietro abbracciamo la maglia e usciamo da dietro e facciamo una maglia alta normale di nuovo carico il filo entro in da dietro abbraccio la maglia esco dall'altra parte e faccio una maglia alta si è normale di nuovo carico il filo entro da dietro abbraccio la maglia in realtà esco maglia alta il punto elastico è un alternarsi di una maglia presa dietro è una maglia alta presa davanti andiamo fino alla fine del giro sono arrivata alla fine del mio giro mi chiudo con una mezza maglia passa nella prima nella terza catenella della prima maglia questo ora questo punto elastico andiamo lavorarlo con una mano un po più sostenuta deve risultare sostenuto il cappellino il bordo quindi adesso ci alziamo con ancora 3 catenelle dove c'è la maglia presa davanti la maglia alta presa davanti andremo fare carichiamo il filo un'altra maglia presa davanti quindi entriamo in questa maniera abbracciamo la maglia usciamo maglia alta la maglia presa dietro carichiamo il filo entriamo da dietro in questo punto questo abbracciamo la maglia usciamo ma gli alta quindi dove c'è la maglia alta presa dietro ma facciamo un'altra maglia presa dietro dove c'è la maglia alta presa davanti facciamo una maglia alta presa davanti continuiamo per tutto il giro ho finito il mio elastico nel mio caso ho ritenuto una misura adeguata cinque giri di punto elastico ora rovesciamo il lavoro e andiamo a cucire la parte alta del cappello per cucire la parte alta del mio cappello preso una goda lana con un filo piuttosto lungo della stessa lana entrerò nel giro di me nel primo giro di mezze maglie alte in questo modo davanti e una dietro una davanti una dietro così per tutto il giro lasciando una codina di filo vi faccio vedere mi lascerete una codina di filo che poi tiraremo insieme a quella che uscirà da questa parte sono uscita alla fine del giro con la mia seconda codina ora tirerò le due code chiuderò completamente il mio foro e farò un modo molto stretto l'ho fatto vicino proprio stretto vicino al cappellino ecco vedete andremo a riportare il nostro cappellino dalla parte del diritto e qui andrò a cucire il mio pompon ecco il mio cappellino la mia cuffiettina finita ho attaccato il pompon con questo andrò a fare un bellissimo completo con il maglioncino nebbia io vi ringrazio tanto per l'ascolto ho tantissime idee spero vi sia piaciuto questo cappellino se volete iscrivervi io continuerò a proporvi delle cose dei dei bei lavoretti e se cliccate sulla campanella vi arriveranno le notifiche quando io pubblico i prossimi lavori vi ringrazio tanto alla prossima ciao